buongiorno a tutti finalmente il video sulle sopracciglia super 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 richiesto le sopracciglia fanno tanto per le geometrie facciali ed è giusto prendersene cura e bisogna seguire alcune regole secondo cui c'è un punto di inizio che comincia con l'altezza dell'aletta del naso un punto d'altezza che si incrocia con una linea immaginaria abiqua ed un punto finale che combacia invece con un'altra linea che tocca la fine dell'occhio è molto più semplice di quanto si possa spiegare insomma inizio quindi a depilare tutti i punti in eccesso e con una forbicina successivamente vado a tagliare anche i peli fuori posto che sono fin troppo lunghi se avete dei peli fuori posto appunto anche nella parte superiore del sopracciglio rimuovete di però fate attenzione a non toglierne troppi perché altrimenti il sopracciglio si abbassa e quindi sembrerà che avete un occhio cadente spero che questo video vi sia stato d'aiuto anche se è stato piuttosto breve ma intenso e per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto un bacione alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti